Allora, quello che volevo dire era questo. Vediamo se ce la faccio a dire. Sì, devo sistemare lo schermo. Quindi, teniamo lo schermo preparandolo per la rassegna stampa di Salvatore. Mettiamolo così. Ecco qua. È stata una fantastica nuova versione di Procaster, è veramente bella. Allora, ci ho detto, Salvatore, a te la linea. Ok. Se ti vuoi mettere qui. Perfetto. Prego, inizia gli appunti. Ok. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti gli web spettatori che, ovviamente, visto l'orario, come dicevamo, come anticipavamo con Roberto, non sono tantissimi come all'inizio, però confidiamo, diciamo, di far impennare l'audience con questa rassegna stampa meno rassegnata del solito, diciamo. Quindi, numero due della nostra rassegna stampa, come al solito, andremo un po' a volo d'uccello, nel senso che partiremo con un light motive. La settimana scorsa, se ricordate bene, parlavamo di droga e di proibizionismo, di politiche proibizioniste sulla droga che davano, il risultato che, ovviamente, come un teorema matematico danno, cioè fallimento totale, un risultato controproducente sotto tutti gli aspetti, ordine pubblico, costi, eccetera, eccetera. Oggi parleremo di un tema che ha, ovviamente, delle liaison con la tossicotipendenza e con la droga, perché è un altro mercato fiorente nelle mani della criminalità organizzata. Stiamo parlando della prostituzione e, anche qui, ovviamente, la prima risposta del legislatore, la prima risposta di chi è incaricato di far rispettare l'ordine pubblico, ovviamente, è il riflesso proibizionista. In questo senso si attuano politiche sempre più repressive, sperando che queste diano frutto. Ma noi sappiamo benissimo che non è così, perché in ogni paese del mondo questo tipo di politiche non fa che incentivare il crimine, regalando fior di quattrini all'industria clandestina gestita dal crimine. Dopo, diciamo, questo cappello introduttivo passeremo a trattare di politica estera. Ci sono degli scenari preoccupanti per quanto riguarda l'Asia e non solo l'Asia. Partiremo dal Pakistan, dove è successo un incidente che potrebbe avere conseguenze anche nell'immediato futuro, per quanto riguarda le relazioni tra due stati molto vicini, l'Inghilterra e il Pakistan. Ricordiamo che il Pakistan, insieme all'India, faceva parte di quel antico impero coloniale britannico cantato all'inizio del secolo scorso da Rudyard Kipling, giusto per fare un nome. E quindi c'è questo elemento di frizione. Non sappiamo quali saranno le conseguenze, però vedremo nei prossimi giorni. Si passerà poi alla Francia, dove la politica interna francese offre sempre nuovi spunti di discussione, di polemica tra le varie forze dello schieramento parlamentare francese. Daremo uno sguardo al volo d'uccello alla Grecia, è una crisi che è passata in sordina, ma in realtà è sempre un tema di primo interesse e poi naturalmente potrebbe di nuovo aggravarsi nelle prossime settimane. Daremo uno sguardo alle previsioni elettorali per quanto riguarda le elezioni presidenziali nel Portogallo e poi ci sposteremo su un'altra zona calda, che rischia appunto di diventare una zona calda del pianeta. Mi sto riferendo all'America Latina e alla tensione crescente tra due paesi di questo continente, ovvero sia il Venezuela di Hugo Chavez, del dittatore populista Hugo Chavez, e la Colombia sempre eternamente dibattuta tra una sanguinosa guerra civile che non si riesce a debellare e le insidie, appunto tutto si collega del narcotraffico. E chiuderemo fortunatamente appunto questa rassegna stampa con due buone notizie, quindi una rassegna stampa un po' meno rassegnata quest'oggi, entrambe provenienti sintomaticamente dall'America Latina. Il presidente Lula si è impegnato personalmente per il rilascio di una prigioniera iraniana che era stata condannata a morte per lapidazione dal regime di Teheran. E quindi nei prossimi giorni vedremo quali sviluppi avrà la vicenda, comunque l'impegno di Lula è stato reso pubblico in più interventi durante una manifestazione elettorale in sostegno della candidata del partito di governo. Ciliegina sulla torta, parleremo anche del primo matrimonio gay di una coppia cilena, che però non si è consumato in Cile ma in Argentina. Sappiamo che l'Argentina le scorse settimane è stato uno di quei paesi che si è aggiunto alla lista non folchissima ma già abbastanza lunga che ha messo il matrimonio omosessuale nella propria giurisdizione. Quindi chiudiamo questa rassegna stampa con delle notizie abbastanza rassicuranti, almeno da questo punto di vista. Dunque partiamo come detto dalle Figaro che fa un'analisi del problema prostituzione. In particolare viene citato uno studio dell'ONU e di altri istituti di ricerca sociale che mostra una modifica per quanto riguarda il proscenitismo, cioè in pratica la gestione della prostituzione che viene data come la percentuale di partecipazione femminile in questa fattispecie di reato aumenta. Dal 24% di qualche anno fa si passa al 39% e quindi viene analizzata questa crescita, vengono analizzate le cause di questo preoccupante incremento e viene fatto un po' l'identikit della nuova procacciatrice. Un tempo venivano utilizzati termini come madame, come prima donna, insomma ci siamo capiti cosa stiamo parlando. Effettivamente dall'identikit emerge una figura sempre più, tra virgolette, professionale, un po' stile manager e viene appunto descritto il caso di una donna proveniente dall'Europa dell'Est che gestiva in Francia un call center specializzato nell'offrire prestazioni di tipo particolare e ovviamente si sottolineava la professionalità di questa signora, il mutamento delle caratteristiche di questa figura da intermediaria tra chi gestisce, ovviamente stiamo parlando sempre di gestione criminale, tra chi gestisce questo traffico e chi offre la prestazione, anche se noi ovviamente sappiamo che molte volte si tratta di vera e propria coercizione, quindi ovviamente il fatto che ci sia stata una modifica di come ci si presenta per la gestione di questo traffico ovviamente ciò non toglie i rischi, ciò non sminuisce i rischi, i pericoli a cui vanno incontro coloro che si dedicano a questa attività e quindi di fronte a questo la risposta del legislatore ovviamente come dicevamo nell'esordio è quella della stretta proibizionista, quindi sanzioni per quanto riguarda le prostitute, sanzioni per quanto riguarda i clienti, insomma multe pesanti e si va addirittura fino all'incarcerazione sia delle prostitute che eventualmente dei clienti colti in flagrante, è un po' una politica simile, la ritroviamo anche in Nuova Zelanda, traiamo la notizia dal New Zealand Herald, il principale giornale neozelandese che annuncia un giro di vite per quanto riguarda la prostituzione nella città di Auckland e praticamente le autorità locali hanno imposto la linea dura combinando sanzioni pesantissime sia ai clienti delle prostitute che alle prostitute stesse, si va da una multa, da un'ammenda fino a 2000 dollari, addirittura fino all'incarcerazione di chi viene sorpreso nella consumazione dell'atto e quindi con questo cambio di politica le autorità locali sperano di debellare un fenomeno che ha assunto proporzioni massicce, ovviamente vengono anche riportate le critiche di alcune associazioni come ad esempio il collettivo delle prostitute Anna Pickering che ovviamente mette in risalto il fallimento a cui andranno incontro questo tipo di politiche all'insegna all'insegna della pura repressione. Poi ovviamente noi in Italia conosciamo il problema, abbiamo avuto la nostra parte perché se ricordate bene negli scorsi anni uno dei temi di cui si era parlato nell'agenda di un precedente governo di centrodestra era quello tra virgolette della regolamentazione della prostituzione quando in realtà si trattava soltanto di inaspire le pene sia per le prostitute che per i clienti, insomma un puro taglio repressivo con la bava alla bocca senza peraltro risolvere il problema, anzi tutte le analisi indicano che la prostituzione invece di diminuire ovviamente aumenta la sua pervasività e quindi abbiamo un'ulteriore conferma sotto gli occhi della fallacia di questo approccio, primo da antiproibizionisti però direi almeno da persone che seguono i dettami del buonsenso più che da politici con un particolare taglio ideologico. Dunque cambiando argomento, passando appunto alla politica estera propriamente detta, la politica con la P maiuscola, parliamo di questo incidente diplomatico, almeno rischia di connotarsi come tale, che è intercorso tra l'Inghilterra, del nuovo governo di David Cameron e il Pakistan. La notizia la espungiamo da The Independent, il giornale indipendente di area Lib Dem dell'inglese, che appunto annuncia che i servizi segreti pakistani, il famigerato ISI, avrebbe annullato una serie di colloqui con la controparte, con gli omologhi colleghi britannici, nell'ambito di una serie di consultazioni in chiave di lotta al terrorismo integralista islamico. Qual è il motivo di questo che potrebbe essere un incidente piuttosto serio? La protesta nasce appunto dall'affermazione di David Cameron, che sulla scorta ovviamente di fonti americane, ha fatto accenno in discorso ufficiale, alla contaminazione da parte dei servizi segreti pakistani, alla penetrazione per meglio dire, nei servizi segreti pakistani di agenti di Al Qaeda, del terrorismo integralista islamico. Questo Cameron l'ha fatto durante la sua visita ufficiale in Afghanistan di qualche settimana fa. E l'eco delle polemiche appunto ha dato come prima ritorsione questo annullamento di colloqui molto importanti, perché ricordiamo la collaborazione tra l'intelligence occidentali e i pakistani fa parte della strategia di contrasto al terrorismo islamico, non solo della nuova amministrazione americana Obama, ma era uno dei cardini, se ben ricordate, anche del precedente approccio americano, la questione afghana. E quindi venendo meno questa interazione ovviamente la situazione può diventare esplosiva, visto la sostanziale instabilità della fragile democrazia pakistana, se così si può definire, perché il Pakistan esce da un decennio di dittatura militare del Presidente Musharraf, ci sono state nuove elezioni, il quadro è piuttosto diciamo non è chiaro, perché non si sa esattamente chi detenga le chiavi del potere e ricordiamo per inciso che il Pakistan è da qualche anno diventata una potenza nucleare, se a questo aggiungiamo i rapporti non idilliaci, se possiamo utilizzare un termine un po' edulcorativo, tra il Pakistan e l'India ovviamente tutti possono immaginare quanto qualsiasi scossa proveniente da quella zona può riverberarsi seriamente anche dalle nostre parti, quindi una situazione da monitorare, da valutare costantemente. Passando dal Pakistan e dai suoi rapporti tribolati con l'Inghilterra alla Francia, dibattito di attualità nella politica francese, dopo la polemica delle scorse settimane sul velo, sul burka, ricordate che il governo francese ha votato per il bando totale del velo islamico, provocando una zata di scudi da parte delle opposizioni, della parte della comunità islamica. Abbiamo una presa di posizione del nuovo astro nascente dell'estrema destra francese, che è Marine Le Pen, la figlia di Jean-Marie Le Pen, che è il patriarca del front nazionale dell'estrema destra francese, sappiamo un partito che fa del contrasto fin troppo radicale all'immigrazione clandestina, al nazionalismo francese, la propria agenda politica. È un movimento che può benissimo essere annotato tra la lista dei partiti di ispirazione neofascista, che più o meno si agita un po' in tutto il continente europeo, numericamente più forte. Dopo un periodo di crisi dovuto all'assorbimento dell'elettorato frontista da parte del Presidente francese Sarkozy, del suo contenitore politico, mutuando alcuni temi del front nazionale, naturalmente declinandolo in una maniera ovviamente più accettabile, più presentabile all'opinione pubblica francese, come ad esempio l'ordine pubblico, la necessità di restaurare tra virgolette le istituzioni francesi lasciate in stato di degrado dalle precedenti amministrazioni socialiste, le argomentazioni da campagna elettorale di Sarkozy, il solito discorso, un po' legge d'ordine, efficientismo che è portato avanti da una certa destra carismatica di cui anche noi ovviamente conosciamo, abbiamo avuto ampia testimonianza negli anni passati e presenti. Dunque dicevamo Marine Le Pen che molti danno nella lotta di successione favorita nella lotta di successione al padre e astro nascente della politica francese, in un'intervista a Le Monde, si compiace del fatto che Sarkozy con la sua linea per quanto riguarda il velo islamico e la polemica di qualche giorno fa sulla necessità di combattere duramente l'immigrazione clandestina, addirittura fino al punto da espelle, da privare della cittadinanza agli stranieri che si macchiano di eventuali reati, quindi Marine Le Pen si compiace della posizione di Sarkozy e fa notare che il Presidente francese secondo lei ha spostato lo spettro delle sue politiche sempre più a destra fino addirittura a confermare ufficialmente le tesi portate avanti dal Front Nazionale. E questo naturalmente dovremo vedere come si riverbererà nelle prossime elezioni, ricordiamo che in Francia si voterà per il prossimo mandato presidenziale non fra moltissimo tempo, nel 2012 e ovviamente il Front Nazionale tenta di recuperare quella fetta di elettorato che Sarkozy nella precedente elezione era riuscito ad intercettare riducendo all'umicino i consensi dell'estrema destra, quindi un fronte aperto a destra vedremo come Sarkozy, di solito molto abile a smaccarsi tra le varie correnti riuscirà a atturare questa eventuale falla, che poi non è l'unica perché ricordiamo addirittura molti notabili del partito di Sarkozy, dell'Unione della maggiorità presidenziale, l'OMP, mette in dubbio addirittura la presentazione per un secondo mandato di Sarkozy stesso, sono entrati già in campo, si sono autoinvestiti personaggi di rilievo notabili dell'area moderata francese come l'ex ministro degli estri Dominique de Villepin, bisogna vedere quali consensi riusciranno, quale rete riusciranno a tessere questi eventuali candidati all'Elysée, questi avversari di Sarkozy nell'ambito del fronte moderato. Identico discorso ovviamente si potrebbe fare anche per la controparte di sinistra, per il partito socialista che non versa in condizioni migliori, anzi è dilagnato da una dialettica devastante tra socialisti propriamente detti e l'ala un attimino più socialista, più socialdemocratica. Rimanendo in Francia è appunto a testimonianza di quanto dicevamo precedentemente delle difficoltà in cui si dibatte la gauche francese, in particolare parliamo dei Verdi, i Verdi sono una forza politica che ha avuto uno spettacolare successo nelle elezioni europee del 2009, balzando addirittura al 17% ad una spanna a pochissima distanza dal partito socialista, quindi quasi sul punto di diventare la forza principale della sinistra francese e la principale forza di opposizione al centrodestra. Il successo è stato poi confermato nelle successive elezioni regionali di qualche mese fa, anche se in misura meno eclatante, il movimento Europa Ecology si è fermato poco sotto il 13%, comunque confermandosi la terza forza politica del paese. Il leader carismatico dell'ecologismo francese è una vecchia conoscenza anche italiana, è Daniel Combendit che è una delle personalità più importanti del 68 francese, quindi è persona che mastica politica da decenni ed è riuscito con il suo carisma a risollevare i Verdi dalle secche in cui si trovavano, perché i Verdi in Francia erano una forza politica tutto sommato marginale. La crescita è testimonianza dell'avvenuta penetrazione dei temi verdi ambientalisti nell'elettorato francese di cui si aveva testimonianza da anni. Se non che questa crisi di crescita del movimento ecologista ha generato delle frizioni notevolissime all'interno del gruppo dirigente, perché molti ovviamente non vedono di buon occhio il ruolo carismatico, quasi da guru che Daniel Combendit si è ritagliato. La polemica è esplosa al calor bianco negli scorsi mesi, in particolare con il numero 2 dei Verdi che è Jean-François Plassé che ricordiamo già qualche mese fa aveva accusato il Combendit di essere una specie di dittatore. Senza utilizzare mezzi termini il dissenso era esploso nell'ambito dell'Assemblea nazionale dei Verdi con grande risalto dato dai media transalpini. Adesso ci diciamo dopo qualche mese Plassé ritorna all'assalto e parla delle provocazioni di Daniel Combendit ovviamente attaccando duramente, addirittura giudicando assolutamente ridicolo, usando termini come Daniel Combendit si è difeso dalle accuse di Plassé che ha una visione dell'ecologismo un attimino più tradizionalista, quindi con meno appeal di quella portata avanti da Combendit e lo stesso Combendit accusa Plassé e i suoi seguaci di attuare una politica assolutamente ridicola e di rischiare di cadere in una specie di delirio settario, quindi come al solito la conferma è che volano termini grossi e quando si tratta di dibattito interno in Francia soprattutto a sinistra non ci si risparmia colpi anche sotto la cintura, quindi a differenza dell'Italia dove di solito le polemiche vengono comunque ricoperte di un manto rassicurante piuttosto di una spesa di cortina fumogena in Francia ce le si dà di santa ragione come si suol dire, vedremo anche a sinistra quali saranno i riflessi di queste lotte intestine perché ricordiamo appunto in Francia si voterà nel 2012 e quindi la contesa si preannuncia ricca di interesse. Dunque passando dalla Francia, dalla politica interna francese alla Grecia dalla Libre Belgique, giornale belga, prendiamo questa notizia e praticamente in Grecia c'è stato uno sciopero dell'autotrasporto che dura da sei giorni e praticamente ha paralizzato l'attività politica, l'attività economica per meglio dire del paese e quindi andando a colpire il paese ellenico proprio nel momento più controindicato perché chiaramente questa è stagione turistica, ovviamente molti che sono all'ascolto, alcuni di quelli che sono all'ascolto magari avranno progettato una vacanza in Grecia, si troverebbero di fronte a dei problemi perché oltre al marasma sociale in cui il paese sta vivendo da qualche mese, da quando esplosa la crisi ovviamente c'è il timore, purtroppo il timore concreto che si possano verificare dei torbi, dei conflitti sociali che sono ovviamente, le cui conseguenze sono imprevedibili dal punto di vista dell'ordine pubblico e questa quindi è la testimonianza sulla stampa di una crisi, di una stampa internazionale, di una crisi che è stata messa momentaneamente sotto silenzio, sapete benissimo c'è stato l'intervento concertato dell'Unione Europea con il Fondo Monetario Internazionale che tramite l'elargizione di un fondo di emergenza ha permesso alla Grecia di respirare un attimino, però i numeri fondamentali economici come dicono gli esperti in materia sono veramente preoccupanti, gravissimi e la ricetta di austerity messa in atto dal governo socialista di Papa Andreu ovviamente causa molti scontenti e rischia appunto di precipitare il Paese in una spirale difficilmente prevedibili, anche qui ovviamente situazione che chi di dovere monitorerà quotidianamente, a noi interessa prendere atto che il quadro è ben lungi dall'essere chiarito. Passando al Mundo, il giornale principale, il giornale spagnolo insieme al Paese, il Mundo mette riflettori sulla Russia, un altro Paese di cui ultimamente si parla fin troppo poco, praticamente il Mundo ci dà conto di una manifestazione che si svolta a Mosca il 31 scorso, il 30 giugno in difesa dell'articolo 31 della Costituzione, l'articolo 31 della Costituzione russa è quella che regolamenta la libertà di opinione, quindi come possiamo immaginare uno dei cardini di ogni architrave costituzionale. Praticamente i manifestanti portano avanti la convinzione che in Russia questa libertà non viene rispettata, ovviamente abbiamo tutta una serie di riferimenti internazionali, di associazioni che confermano questo dato di fatto, cioè che la Russia in realtà non è una democrazia ma che viceversa si avvia verso verso un preoccupante ritorno al passato sovietico, in più una coloritura nazionalista data dall'ex Presidente Putin che ha connotazioni molto preoccupanti, basti considerare la gestione della questione Cecena attuata negli scorsi anni, noi radicali sappiamo benissimo una politica di terra bruciata, in più i vari omicidi di personaggi scomodi a regime come Anna Politkovska e altri reporter coraggiosi testimoniano il fatto che come questi manifestanti vanno coraggiosamente affermando nelle piazze delle principali città russe, la Russia rischia di ritornare ad essere uno Stato autoritario. Naturalmente le forze di polizia sono passate immediatamente al contraattacco e hanno operato un centinaio di arresti in questa manifestazione non autorizzata che si è svolta a Mosca. Gli organizzatori della manifestazione in particolare erano il movimento Solidarietà guidato dall'ex Vicepremier russo ai tempi di Boris Yeltsin, Boris Nemtsov, tra l'altro uno dei principali artefici delle sfortunata politica di liberalizzazione dei grandi combinati statali sovietici, poi naturalmente caduto in disgrazia col nuovo corso putiniano e il leader del fronte della sinistra Sergei Udalsov. Ma naturalmente la coalizione è molto più composita e fa capo a un personaggio singolare di cui molti ovviamente hanno sentito parlare al di fuori dell'ambito politico che è Garry Kasparov, ricordiamo il campione, colui che fu a lungo campione mondiale di scacchi, che è diventato un po' il leader carismatico della protesta anti Putin. Ovviamente non bisogna sottovalutare il fatto che nelle principali piazze russe di Mosca, nello specifico, scendano poche centinaia di manifestanti perché la storia russa è fatta di queste manifestazioni di minoranza che poi ovviamente hanno comunque alle spalle un retroterra, un consenso molto più importante di quel che lasciano vedere i numeri, si starebbe magari creando una specie di moral majority dietro queste manifestazioni, quindi il governo Putin dovrà stare molto attento nei prossimi mesi per valutare l'entità della protesta e ovviamente l'Occidente dovrà guardare con uno sguardo un attimino meno indulgente nei confronti del governo russo, invitandolo a non trascurare, se vogliamo usare un termine, una formula anche questa un po' edulcorata, non trascurare la questione, il dossier spinoso dei diritti umani, anche se ovviamente da quello che abbiamo accennato si estrapola che il problema russo è proprio un problema di vocazione all'autoritarismo del potere russo e quindi va contrastato con tutti i mezzi possibili, al di là delle manifestazioni di generica amicizia, di piageria a cui qualche leader purtroppo europeo ci ha abituati. Passando dalla Russia al Portogallo, il pubblico che è il principale giornale portoghese ci dà testimonianza di sondaggi che danno come favorito nelle prossime elezioni presidenziali, Anibal Cavaco Silva che è stato primo ministro portoghese negli anni 90, è già presidente, quindi alla ricerca della conferma per un secondo mandato, Anibal Cavaco Silva è l'esponente del Partito Socialdemocratico che nel sistema portoghese rappresenta una forza politica che si colloca a dispetto del nome su posizioni di moderati, su posizioni quindi di centrodestra, di conservatorismo e cattolicesimo moderato. E quindi questo sondaggio da Cavaco Silva ha vantaggiato largamente al 67% sui suoi potenziali concorrenti, ricordiamo che in Portogallo c'è un regime, un governo, una spesa di coabitazione nel senso che il Presidente della Repubblica ha l'espressione dello schieramento moderato appunto Cavaco Silva stesso, mentre il governo è retto dai socialisti in coalizione con altri partiti della sinistra, è un esperimento che tutto sommato sta funzionando abbastanza bene insomma tutto sommato. Quindi passando dall'Europa ad altro continente, nello specifico l'America Latina, dicevamo all'inizio della trasmissione del fronte caldo che si sta aprendo tra Venezuela e Colombia, che un tempo erano le repubbliche sorelle da cui partì diciamo l'emancipazione del continente latinoamericano dal colonialismo spagnolo tramite diciamo gli uffici, i buoni uffici di Simon Bolivar, il famoso libertador che appunto si battè fu un principale artefice dell'indipendenza del Sud America dal colonialismo spagnolo. Da cosa è dovuta questa crisi virulenta ma non improvvisa tra Venezuela e Colombia? Beh naturalmente molto è dovuto alla guerriglia di estrema sinistra, la guerriglia comunista delle FARC che si è insediata nella Colombia ed è una spina nel fianco per quanto riguarda il governo colombiano che sta cercando in tutti i modi di debellare questa forza armata pur avendo ottenuto alcuni importanti successi senza riuscire a debellarne completamente la pericolosità e allora il sospetto, anzi i colombiani dicono più di un sospetto perché naturalmente apportano dei dati, dei documenti ufficiali, delle riprese ufficiali, il sospetto che i colombiani hanno e che le forze della guerriglia paramilitare di sinistra delle FARC praticamente usano il territorio venezuelano come base logistica per rifornirsi, per addestrare le proprie truppe e quindi per ritornare di nuovo in combattimento nella zona oltre confine, nella zona colombiana. Col passare dei mesi questa tensione ovviamente è venuta crescendo anche per le difficoltà interne del governo populista di Chavez in Venezuela che naturalmente sappiamo sta intraprendendo sempre più la china di una vera e propria dittatura, nel senso che dopo il commissariamento di tutti i media contrari, di tutte le voci contrari al regime bolivariano, così viene definito del Presidente Chavez e dopo tutte le difficoltà con la comunità internazionale, la tentativa di aprire dei canali con paesi tra virgolette pari, a un tempo si sarebbe detto i paesi dell'asse del male come ad esempio l'Iran o la Corea del Nord ovviamente fa sì che anche nei confronti ovviamente del vicino colombiano i rapporti si stiano rigidendo sempre di più e il regime fa mostra dei propri muscoli insomma. E quindi il Venezuela ha deciso di rompere la settimana scorsa le relazioni diplomatiche con la Colombia che forse è il preannuncio di misure forse addirittura più drastiche. Questo mentre ovviamente c'è il cambio di governo in Colombia perché lo scorso mese è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Juan Manuel Santos che ha preso il posto di Alvaro Ribe che era uno dei più fieri, diciamo il più fiero avversario di Chavez nella zona e quindi dovremo vedere se l'elezione del nuovo Presidente riuscirà a smorzare un attimino la tensione. Nel frattempo la Colombia ha installato una base aerea nei pressi della frontiera col Venezuela nella cittadina di Iopal e quindi ovviamente questo non fa altro che alimentare questa spirale di incomprensione che rischia di degenerare in conflitto aperto tra i due paesi confinanti. Secondo le stime internazionali le FARC, le forze armate rivoluzionari colombiane appunto che ricordiamo che si autofinanziano anche attraverso il narcotraffico, quindi ritorna sempre quel light motive a cui facciamo ampio riferimento nelle nostre assegne stampa. Le FARC secondo fonti internazionali potrebbero contare su una forza combattente che varia tra i 7500 e i 10.000 uomini, quindi si tratta di un vero e proprio esercito che appunto mette controllo a diverse zone del paese rendendo difficile la gestione dell'ordine pubblico al governo colombiano e quindi essendo anche il principale motivo di questa crisi diplomatica che si spera rimanga nell'ambito della diplomazia ovviamente. Ecco, quindi avevamo detto che avremmo chiuso con due buone notizie, con due segnali di incoraggiamento giusto per non apparire troppo, come al solito, abbastanza negativa, perché ovviamente purtroppo i giornali internazionali come quelli nazionali ovviamente fanno ampio riferimento a conflitti, tragedie, fenomeni di costume negativi e quant'altro. Quindi chiudiamo questa rassegna stampa con due notizie davvero incoraggianti che vanno anche a trattare argomenti che ai radicali stanno molto a cuore. Nel particolare iniziamo a parlare di pena di morte. Voi sapete che l'Iran, come anche risulta dal recente rapporto di Nessuno Tocchi Caino, è uno dei principali paesi che continuano ad applicare la pena di morte e anzi implementano purtroppo l'utilizzo di questa barbara pratica di giustizia, non a caso definita giustizia capitale. C'è l'impegno da parte del Presidente brasiliano Lula Inasio da Silva, Presidente Lula, se ricordiamo ancora per pochi mesi perché in scadenza del secondo mandato ovviamente ci saranno le elezioni ad ottobre, si dovrà designare un nuovo capo dello Stato, lo stesso Lula pur godendo di sondaggi che gli garantirebbero un tranquillo terzo mandato ha deciso di passare le consegne e di fare un po' da padre nobile della democrazia brasiliana, di ritagliarsi questo ruolo super partes. Dunque il Presidente Lula dicevamo ha preso pubblico impegno a impegnarsi appunto per salvare la vita di una donna iraniana che è stata condannata a morte per l'abitazione. Si tratta di Sakineh Mohamed Ashtiani, appunto di 43 anni, madre di due figli che è stata condannata a morte sotto accusa di adulterio, perché nei paesi islamici, diciamo in Iran soprattutto si può anche morire appunto per essersi tra virgolette resa colpevole di adulterio, questo con buona pace appunto di chi va cianciando insomma del fatto che non ci si debba comunque impegnare per cercare di migliorare le condizioni di vita, le condizioni di diritti umani anche in quelle zone, un diritto di intervento umanitario che ovviamente esula chiaramente dall'intervento armato, perché se è vero che la democrazia non si esporta con le bombe, però è doveroso che la comunità internazionale si impegni per far sì che tutti i paesi abbiano degli standard di rispetto dei diritti accettabili, che non si consumino, che non si perpetuino queste barbarie sotto gli occhi impotenti appunto della comunità internazionale e quindi il Presidente Lula si è impegnato sfruttando i buoni rapporti con l'Iran appunto in favore di questa attivista e quindi sembra una notizia abbastanza rassicurante, anche perché poi ricordiamo che il Brasile aveva stipulato qualche mese fa un trattato per il nucleare civile con l'Iran di Ahmadinejad che ha suscitato diverse polemiche non solo da parte degli Stati Uniti, perché ovviamente l'Iran è sotto il mirino perché molti magari anche a ragion veduta sospettano che dietro la volontà di possedere tecnologia nucleare per uso civile in realtà si mascheri la volontà di potenza del regime e la volontà di dotarsi dell'arma nucleare, questo ovviamente scatenerebbe, stabilizzerebbe ulteriormente un'area di per sé che è già piuttosto problematica, con tutti i conflitti risolti dell'area non farebbe altro che aggravarli. E chiudiamo con il Cile, con un'altra tematica che sta a cuore radicali, anche se anche in casa radicale il consenso non è unanime, stiamo parlando dei matrimoni gay di cui parlavamo ad esempio un paio di settimane fa con Sergio Rovasio in trasmissione se ricordate bene, il Clarin, principale giornale argentino, ci dà conto del primo matrimonio gay di due signori cileni, voi sapete che l'Argentina è stato uno dei paesi, dicevamo in apertura, che ha legalizzato il ricorso alle nozze gay, quindi fa parte di quella lista non foltissima, ma crescente di paesi che ha deciso di aprire l'istituto del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, anche alle coppie omosessuali. Due uomini cileni, in particolare i nomi sono Giorgio e Jaime, si sono sposati nella città di Mendoza, Mendoza è una città argentina che si trova a mezza strada tra l'Argentina vicino al confine cileno e quindi i due si sono recati in questa città e sono stati sposati con la nuova procedura messa in legge dal governo argentino. Le reazioni sono state molto ovviamente, come si può comprendere, molto interessanti, sono state naturalmente la gioia di chi ha partecipato alla cerimonia, i grida, i canti, la festa, insomma come ognuno può immaginare, è stato come ogni buon matrimonio, come quei matrimoni descritti da tanta letteratura ovviamente si è festeggiata fino a tarda ora. E quindi questa è la notizia con cui volevamo chiudere questa rassegna stampa, ci sembra un piccolo segnale positivo in mezzo a un mare magnum di spunti negativi che ci vengono dal mondo tra conflitti, guerre irrisolte e quindi chiudiamo con questa nota di speranza e fra un po' ci prepariamo a ritornare in diretta con Roberto naturalmente, restiamo in diretta con Roberto naturalmente ovviamente sarò pronto ad assisterlo in trasmissione. Hai messo lo schermo? Hai messo lo schermo? Hai messo lo schermo? Hai messo lo schermo? Come? Hai messo lo schermo? Ah perfetto, fantastico. No ma è toccato lì per caso? Vabbè, quindi ovviamente noi ci risentiamo per una nuova puntata della rassegna stampa internazionale domenica prossima sempre allo stesso orario con la speranza che l'audience diciamo si impegni un attimino, l'orario come dicevamo, come sottolineavamo in apertura siamo in pieno orario di pennichelle quindi almeno con la speranza di aver conciliato il sonno a quei coraggiosi che ci hanno ascoltati passiamo alla prossima fase della nostra programmazione Roberto hai qualcosa da aggiungere? Sì, dammi la sentire. Ah ok, ovviamente devo cedere come si suol dire la catrega quindi disciplinatamente mi faccio da parte. Ecco, grazie Salvatore, spero che tutto sia andato bene. Ma non ci sono state particolari polemiche? Non ci sono state particolari polemiche? Vedo che insomma la chat è tranquilla. Ora, a questo punto sono le 15.20 e avremmo previsto in palinsesto il collegamento con Carlo Loida Cagliari però Carlo non lo vedo collegato ma ci aveva già detto che aveva avuto un problema con il computer cioè aveva la scheda audio rotta.